è disponibile la nuova letteratura per il triennio firmata da corrado bologna paola rocchi e giuliano rossi per l'esce redditore letteratura visione del mondo un'opera che valorizza i diversi punti di vista a confronto in cui la letteratura dialoga con l'arte il testo con l'immagine e ogni argomento è proposto con un ordine chiaro e razionale la letteratura segnala in modo chiaro i testi chiave e aiuta lo studente con guide all'analisi ben fatte riassunti mappe inclusive e video lezioni d'autore letteratura visione del mondo è ricco di aperture verso la contemporaneità e contiene numerosi spunti pluridisciplinari ogni sezione si chiude con una sintesi che prepara al colloquio dell'esame di stato e contiene l'indicazione di alcuni spunti di cittadinanza temi di cittadinanza e questioni contemporanee vengono analizzati in tutta l'opera con richiami alla costituzione italiana e proposte operative per i dibattiti in classe letteratura visione del mondo comprende i sei volumi della letteratura il volume di risorse per l'insegnante il volume di preparazione all'esame di stato e il volume semplificato l'essenziale